Buon pomeriggio, mi trovo all'interno dell'Arapacis, non solo proprio all'interno del museo, ma letteralmente all'interno dell'Ara. Questo è ancora il pavimento originale, questi sono i freggi della parte interna, dove si vede ad esempio la decorazione con il bue cranico, cioè il bue che è però rappresentato solo nel cranio, quindi ci sono i bucrani che si alternano con i festoni. Questa era una decorazione che si usava moltissimo nei mausolei, la ritroveremo anche presso il mausoleo di Cecilia Metella, che farò vedere nella visita alla piantica che terrò questo sabato mattina, quindi sabato 11 novembre alle 10.30 presenterò la piantica e vedremo anche il mausoleo di Cecilia Metella che riproporrà questo tipo di decorazioni. Qui, proprio al ridosso dell'Ara, non so se si riesce a vedere dal video, ma ci sono dei freggi importantissimi perché conservano ancora un po' del colore che c'era ai tempi delle decorazioni appunto originali, cioè quando i romani realizzavano le loro statue o le loro aree, i loro monumenti, questi monumenti erano tutti decorati, erano tutti colorati. Ovviamente nel corso degli anni abbiamo perso questa meraviglia che era tutta colorata, doveva essere uno spettacolo. Per tanto tempo questo non lo si è saputo, noi invece oggi abbiamo questo tipo di informazioni e possiamo immaginare quanto fossero meravigliosi questi monumenti. Questo è il retro. Eccolo. E qui c'è una ricostruzione di una sezione dell'Arapacis, che si trovava nel campo Marzio, che era una zona fatta costruire dall'imperatore Augusto proprio per gli allenamenti militari. Spero che si riesca a vedere anche se questi monumenti vanno assolutamente visitati. Quindi se ti fa piacere restiamo in contatto, lasciami il tuo numero di telefono e ti inviterò alle mie prossime visite guidate. Sicuramente presenterò anche l'Arapacis perché mi piace molto. Quindi a presto!